E' ancora emergenza rifiuti a Torre del Greco. Lunedì mattina mostrammo le immagini dei rifiuti abbandonati e non raccolti, anche ingombranti, in zona porto. I disagi però non si limitano alla periferia e non sono stati un caso isolato di una sola giornata. Anche questa mattina le nostre telecamere hanno immortalato di scariche improvvisate, questa volta nel cuore del centro cittadino. Drammatico che ancora una volta la chiesetta di San Michele in via di Cocola Marino sia soffocata al degrado. Il largo marciapiede fuori al cancello della chiesa è spesso usato come luogo per depositare sacchetti e immondizia varia. Oggi lo spiazzo ha ospitato addirittura un frigorifero intero. Disaggia anche in piazzetta, dove scarti del mercato e cassette vengono abbandonati ai bordi della strada. E' ovvio che in questi casi l'inciviltà di alcuni a diventare patologica, ma parliamo del centro cittadino. Per il decoro urbano, per l'immagine stessa di Torre del Greco è necessario intervenire immediatamente per rimediare a danni simili, oltre alla necessità di fornire controlli adeguati per evitare che la maleducazione diventi una piaga incontrollata.